Musica Ciao a tutti sono Isaac e siamo qui su Metro 2033 Eeeh ho appena scoperto una cosa In pratica sono al capitolo 6 mi pare E ci sono soltanto 7 capitoli Aia Ci sono soltanto Fa vedere fa vedere Dove siete? Dove siete? Pannello di S22 Come fate che... Blue screen e flash Ecco cosa capisco Cosa c'è su quel monitor? Fantastica Finalmente l'addestramento dai suoi frutti Colonnello quegli schermi Che memoria Vladimir Ho sempre detto che l'esercito è un'istituzione utile Funziona Che gran macchinari Eeeh Brandioso E? Quindi? Primo Morto Secondo Distrutto Terzo Distrutto Non può essere Qui Qui ce n'è uno Ora vi procuro tutte le informazioni Ottimo Che diavolo Cosa è successo? Batteria di riserva scarica Eeeh L'alimentazione principale? Beh Pare che il reattore sia stato disattivato Non potremo avviarlo da qui Ma dal piano inferiore e manualmente Dai progetti non sembra difficile Quasi completamente automatizzato Smettila di schignazzare Come facciamo a scendere? Beh C'è un ascensore e un piano sotto di noi Ma c'è un piccolo problema Per attivarlo dovremo spegnere tutto Anche le luci di emergenza Eeeh Grandioso Grandioso C'è un'altra livella inferiore Bella Stava andando tutto bene Perché mi hai ricaricato? Oh che cavolo Che Che Cazzo Sapevo che non sarebbe stato facile Che diamine Arrivano i figli dell'apocalisse Ullman Cambio di programma Tu resta con Vladimir a difendere questa postazione Se succede qualcosa Vi mando Arteon Buona fortuna a tutti Che cavolo erano quei cosi? Ma Cioè lo so Ci appaiono nemici così a caso Ok Allora Ho scoperto che Quei scatti che mi fa Cioè In pratica Quei scatti là Che ogni tanto Rompono In pratica Mi sbilanciano l'audio Fanno un casino con l'audio Infatti se non sbaglio La parte 15 Aveva l'audio sballato Perché appunto C'erano questi blocchi Che non so cosa Ecco Questi cosi qua Che in pratica Non so cosa Fanno Cioè boh Non so Si blocca tutto Non so neanche il perché Questo è il problema Solo su Metro Boh E l'unico modo è Cercare di Sistemarli via programma Via Eh via programma Via Sony Vegas L'unico modo Due volte Sì Due potrebbe portare fortuna Cioè guardate Quanto è alto Sto posto Eeeh Vai prima te O ci devo andare io Ok Ci devo andare io Scommetto che succederà qualcosa No Ha intenzione di Ok Du Accidenti L'ascensore è laggiù Ma la porta è bloccata Ok Dovremmo fare il giro Dall'altra parte Procediamo con cautela E copriamoci a vicenda Adesso si che è un casino Ecco Che cavolo sono Sti cosi qua What Oh mamma mia Sono esplosioni Esplosivi Boh Le granate Della metro Oh mamma mia Che cavolo sono Perché deve essere Tutto così difficile Oh merda No Merda Tutto così difficile Ok Copriamoci di Aspetta ma questi sono Questi sono i proiettili Quelli là Sono quelli forti Questi proiettili Non voglio sprecare quelli forti C'ho La super arma qua Eccola Ah anche te ce l'hai Grandioso Da notare come trema Lui Non è che dobbiamo Spaccare sto coso No Ah ma vedi Ho capito Dobbiamo attraversarlo Oh merda Bombe atomiche Allora Non ho ne ancora capito Cosa sono Sti cosi Allora Ci sarà un modo Per evitarli Oppure Continua a spawn Una roba infinita Ah Vabbè Lui pensa a quelle E io ho intanto a ricarico Ecco Ci sei? Vedi Però adesso Loro continuano a spawn Arda E questo è il problema Vabbè Io corro Via 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 Oh merda Lo sapevo Miller è stato ucciso Anche lui A volte Può aver bisogno di te Grandioso Ok Quindi non possiamo correre Dobbiamo stare insieme a lui Che non sa correre Va bene E' bello che ce le ha le gambe Ok Poi questi cosi da dove si bucano Guardate quanti sono Andiamo Ok Ok A posto Vuoi venire avanti Oppure Devi stare la Cagare No Ho finito Le munizioni Devo ricaricare Dai Dai Sto cosa Mirare lentissimo Dai Oh no Sta attento dietro Vabbè Ok Lasciamo stare Guardate però gli effetti Diamine Sono stra Sono stra Belli Quando esplodono Cioè non quando li colpiamo Quando esplodono Sembrano del Ah ricarica Ecco vedete Sembrano tanto Eh dai Shocking Sembrano tanto Delle Dei nuclei Nuclei Di half live Quelli là che dovevamo Quelli che dovevamo Eh Disattivare La Stabilizzare Mi pare E dai Muoviti però Sparano Eccolo Geniale Lui va avanti come se fosse una nonnina in carrozzella Veramente Sbrigati Qui E sta fermo Sì lo so che stai seguendo il tuo istinto assassino Ma per favore potresti venire di qua C'è l'ascensore qui Dovevi l'ascensore? Ah ma dai Sbrigati che arriva la gente Dai Sbrigati Chi è? Chi è? Adesso Subirete E' la nostra ira Oh ma smettila di fare casino Tonnello ho attivato l'autoparlante Ho il segnale della centralina dell'ascensore sulla mia console Ora lo accetto Si parte Custodi invisibili Come fai a credere in questa storia dopo tutto quello che è accaduto qui? Eh è vero Io ci ho creduto Quindi si chiude da sola? Sì Ok è una mira di merda Siamo con voi Biomassa? Mentre scendevo nel cuore dell'antica roccaforte La mia anima ebbe un sussulto Che razza di uomo si arrogava il diritto di nominarsi sovrano della D6 e delle sue armi devastanti Colonello vai nella sala del reattore Troverai un reattore principale al centro e a sinistra della sala di controllo C'è un ascensore che scende al piano pedro dove dovrai salire le scale No ancora quei mostri Io mi arrendo ci sono troppi crash Che cos'è sta roba? E adesso cosa facciamo? Vladimir Dovresti vedere Preparati Artyom Adesso si balla Eh si balla Sbrigati però a mirare meglio Cioè non so Devi fare un corso accelerato di mira Non lanciare granate intorno al reattore Artyom Lasciamole qui Tanto per stare qui Questa robaccia sul pavimento è sicuramente tossica E ora il gas Non resisteremo a lungo qui Ah Ok Carichiamo Carico Sbrigati Perché vai così lento Oh merda Non mi piace No ancora sti cosi Voi non sapete quanto odio sti mostri Two shot Wow Wow Il problema è che sto brutto idiota Va all'into falcatrame Io sono abitato ad andare abbastanza velocemente Cioè da notare come vanno Più veloci ste melme verdi qua Col nucleo Di lui E che i miei proiettili non li fanno niente Interessante Ok A posto Avanti Dai sto finendo in medikit Merda No merda Che cavolo Dai Dai Ma che cavolo sta facendo quel tizio Sbrigati no 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 Ok Parte impossibile Mi sa che ti tocca restoppare qui Sì dai Ci vediamo alla prossima Ciao E alla prossima Ciao